Sono diventato un fantasma su Minecraft! Ho un sacco di abilità speciali, come entrare dentro i muri, non farmi vedere degli altri e soprattutto volare, che è la cosa più bella! Riuscire a non localizzarmi i miei amici con i loro strumenti a cappa fantasmi? Oppure moriranno di paura? Meno due giorni per iniziare su Twitch! Oh ah 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 ah! Sono diventato un cavolo di fantasma! E sono tre secondi per lasciare like se vuoi tantissime calamelle per Halloween! 3, 2, 1... Eh sì, proprio così! Praticamente sono diventato un fantasma e oggi andrò a spaventare i miei amici! Allora, voi dovete capire che questo è il secondo mondo di Elox e Zio Krukko! E ogni tanto ci vanno a giocare! Il fatto è che loro credono, come già vi ho fatto vedere dallo scorso e ultimo video, che tutto questo mondo e tutti gli altri mondi della nuova versione di Minecraft che io ho fatto scaricare siano infestati! E di conseguenza hanno ancora i ricevitori di fantasmi! Hanno tipo l'MF che praticamente è quello che calcola veramente dove sono i fantasmi o meno! Ecco, io praticamente mi sono messo una mod dove effettivamente se sono un fantasma, in questo caso sono un fantasma, se mi avvicino dal loro strumento verrà calcolato che c'è un fantasma in giro! Però il fatto è che loro non riusciranno a vedermi! E quindi io mi divertirò un sacco! E oltre questo posso passare anche attraverso i muri! Quindi di conseguenza è il doppio gioco! Ok, perfetto! Credo che posso un attimo stanziarmi qua e vedere se effettivamente arrivano da qualche parte! Tanto come potete ben vedere posso volare proprio come un fantasma! Ok! Ok, sì sì sì, eccoli là! Ok! Questi cose c'erano sbriare erano veramente utili! Uh-huh! Ho chiesto che... Vabbè, no, ancora non ho funzionato però, magari! Oh, ma qui ci sta! Uh, ci sta una tomba qui! Una tomba! Certo, non aprire o sarai maledetto! Ma in tutto questo, loro non mi sentono! E a parte questo... Oddio! Oddio, oddio! Che c'era questo rumore? È messo a che... Oddio! Loro non mi sentono perché sono mutata e io ho messo quella trap! Ma era una trap! Cioè se qualcuno l'ha messa... Ma tu guarda... Non l'hai messa te, è vero? No, che non l'ho messa io! Ti pare che grifo la mia stessa casa! Oh, senti vedere il coso! Ma che ho chiuso? È vero, pure il telecomandino! Ma? Oddio, ma non metto nessuno! C'è qualcuno? Sono fantasmi, grazie che non li vedi! E chi lo sa? Maia! Mi hai colpito te, è vero? No, che non do colpito! Io sto qua su! Non direi che volate! Ho un comando sul Discord che può permettermi di parlare! Mentre... Mentre in realtà sono mutato! E guardate qua! Ma? Cosa? Che cos'era? No, è mutato! Non ho capito! Com'è possibile? Oh no, si è riattivato! È vero! Ma che è sta roba? Non lo so! Non si spegne, aspetta! Scappa, scappa, scappa! Ma dove scappo? Oh! Oddio! Io vado qua dentro! Ma aspetta! Ma che è un blu di me? Oh no, non lo senti ancora? Ancora? Ma? Oh, i blocchi, i blocchi, i blocchi! Non ci sto capendo niente! Mi sta divertendo un casino, ragazzi! Esci da qui! Vieni, vieni! Non si è basso! Non si è attivato! Ah, sta ancora in casa! Che stupidi idioti, mamma mia! Cavolo! Andiamo in questo... Tra il fianco! Non lo so, quella di lei non mi piace più come è casa! Vieni qua! Sta riattivato! Oddio che è! Mi sta preoccupando questa cosa non va bene! Adesso me ne vado! Ok! Oh no! Dov'è? Ma io... C'è qualcosa che mi sta picchiando! Non so io! Non ho detto che non ero io! Corro le ridine! No, non di che volare, dai! Mi colpio di te, su giro! Ma sono qua! E se mette le mucche è meglio! Che pensi che le mucche ti proteggeranno dai fantasmi? Togliamoci un attimo di torno, ragazzi! E loro stanno ancora lì! Cos'è? Complimenti! Se sei arrivato a questo minuto del video, commenta con hashtag SbriFantasma! Guardate che non suonano quando sono lontano, ma se mi avvicino... No, di nuovo! Eh, Lox... Cioè, vieni qua! Andiamo in questa tua casa! Che brutto suono! No, no, aspetta! Andiamocene! Aspetta, aspetta che ero sceso! Dove sei? Vieni qua! Sbrigati! Scappiamo nel nether a sto punto! Ma nel nether! Ma non ho neanche l'accendino per accenderlo! Dai, vieni! Sbrigati! Corri in casa! Ma sta ancora vicino a questo! Oh, no, no, non andare più in quella casa! Torno indietro! Andiamo da un'altra parte! Mi sono forse chiudesso da solo! Sì, andiamo da un'altra parte! E dove possiamo andare? Eh, oh, qualcuno ha colpito! Pure a me! Non so che devo far sp... No, no! Non so! Scapparla! Hai potuto trasferirci? Dove? Qua in mezzo ai cactus? Sì! Non potrà mai prenderci in mezzo ai cactus! Mi è spento! Oh, è tutto! No, invece no! Non si è spento il cavolo! Aspetta! Ora, ora! Mi è scattato! Mi è scattato! Tenteremo di avere un metodo di comunicazione! Guardate tutti! Oh, hai perso un cartello! Fermo, fermo, fermo! Con un cartello! C'è scritto... Ehi! Guarda! No, non va bene sta cosa! No, senti! Mi è stato più sicuro! No! Non vogliamo parlare con te, stupido fantasma! E via! Ecco! Ok! No! È ancora qui! È ancora qui! Oh, non ho messo un cartello! Come ho? Va male! Va tutto male! Che cavolo ti ridi? No! Cosa è questo? Sono molto amico! No, andiamo! No, andiamo! No, andiamo! Non ne vediamo! Non ne vediamo! Via, via! Ma che è? Riprovo questa casa! Ma ci ha tradito! C'è un passaggio segreto! Favamo sempre passaggi segreti! Si riaccede! Ma io stai inseguendo! Eh, per forza! Ok, 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 che mi sono mutato, mi sono mutato completamente in questo momento! Allora, innanzitutto, ok, abbiamo scoperto che effettivamente sta funzionando lo scherzo e mi sto divertendo un casino! Ma oltre questo, stiamo scoprendo anche che il loro strumento, quando mi avvicino, effettivamente suona! E quindi funziona veramente con i fantasmi, con uno che effettivamente è trasformato in un fantasma come me! Però, in ogni caso, non finirà mica qua il nostro scherzo, ragazzi! Ma vi pare? Ancora ce n'abbiamo ancora tanto da fare! Allora, innanzitutto, prendiamoci un po' di TNT, come giusto che sia, e un po' di Clinton Steel! E adesso andiamo a trollarli con la TNT, perché è proprio lo scherzo che voglio più fargli! Ok, un attimo solo che mi smuto, così almeno posso sentirli meglio! Dai, dai, scava, scava, scava! Ma lo aspetti di venire da casa, dai! Ma che a me vieni da casa, stanno i fantasmi! Aspetta, sei riattivato! Sei riattivato! Dove sei? Ho delle uova! Oh, è nato un po' Dai, dai, entra qua! Dove hai caccio? Vabbè! Scava di più! Non mi colpire, non mi colpire! Oh, non mi ha preso! Però è ancora qui? No, 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 no! Non mi devo coprire! Corri, guardi, guardi! Buona fortuna! No, no! Ho chiuso, ho chiuso! Ah, meno male! Che fortuna, ragazzi! Ma come cavolo hanno fatto? Adesso sto salendo... È ancora attivo, non capisco! Sento, sento... Ma perché c'è sta fa... Ho un uovo! Un altro uovo! Ti sta divertendo un casino! No, 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 no! Intanto usciamo, sta casa ormai è andata, credo! Eh, beh! Levati! Aspetta, sono andato... Perché non riesco a... Ma cavolo! No! Ma siamo... Siamo rinchiusi dentro! No! No, 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 ascia, aspetta, vedo un po' cosa male. Ragazzi, ma solo che adesso, adesso, adesso rimetto, rimetto normale. Ehi, raga! Che? Come va? Oh, è tutto bene. Male. Tutto bene? Perché tutto... Perché male? Ah, ah, stai qua. Eh, ci sono i fantasmi. Ci sta un fantasma. Ma che fantasma? Perché vi avete rovinato il pavimento? Vedete che questa casa ci ho perso tanto a farla. Ma l'ha fatta esplodere il fantasma! Come l'ha fatta esplodere il fantasma? Perché? Sì, ci sta un fantasma. Perché lo sta sbuccando da dietro il mio muro? Perché c'era un fantasma! C'era un fantasma? Ma chi vuoi darla bene? Ma è vero! Non fa l'arma. Guarda, ho fatto tutto sotto, guarda! Mi ha fatto un bucan enorme, guarda! Sì, vabbè, ma... Ragazzi, perché vi avete buttato... Eh? Bucato in casa? Non siamo stati noi! Non siete stati voi, non siete stati voi! A sto punto adesso basta, non gioco più, perché non ha senso! Mio Dio, ogni volta mi dovete rompere le scatole, non lo so! Non lo so, non siete noi! Ma dammela a me, dammela a me, vediamo, dammela a me! Vediamo, vediamo! Com'è che io non suona? Non suona con me! Perché no? Ma non ci... Se ne sono andato! Perché se ne sono andato? Ma non sta suonando? Chi sto dicendo che non sta suonando? Tu fai schifo, quindi se ne sono andato, non lo so! Ah, Grucco, tu vai e fate schifo, perché mi avete rovinato completamente la casa! Ma che amici siete? Ma non siamo stati noi! Non siete stati voi, va bene! E dovrei cerervi! Dai, raga, ma che cavolo, però! Sì, spiegami! Eh, ora che devo fare io? Che cosa posso fare adesso? E che amici ho messo per questo cartello? Ma che cacchia è fiftante? Dai, raga, l'ha finito di scherzo! No, ti giuro! Avete iniziato a registrare per i vostri canali di YouTube? No! Aspetta, ora vado a vedere se siete in live, perché se siete in live almeno capisco che effettivamente è uno scherzo! No, non è orario per la live! Non è orario per la lettera maiuscola inizialmente! Vabbè! E che c'entra? È che non l'ho scritto io! Ragazzi, veramente, mi state facendo un po' cadere i maroni! Ora me ne vado via perché... Veramente! Non ha senso tutto questo! No, raga, veramente! Cioè, aggiustate casa mia, grazie! Vediamo! No, non siamo stati... Vediamo! Ah, ciao! Ciao! Ok! Perfetto! Allora, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto! Finisco qua! Perché ho fatto finta di addarmelo ormai! Ma mi raccomando, dovete lasciare tutti quanti un sacco di like! Se volete, il video dove continuo a fare dei troll magnifici ai miei amici! Mi raccomando, lasciate un sacco di like! E iscrivetevi al canale! E soprattutto, seguitemi su Instagram! Scrivetevi al canale! Allora, ragazzi!